Eccoci qui in diretta alla mix zone dello stadio Cabassi di Carpi con il tecnico del Pescara, Pilon nel secondo tempo per 40 minuti si è rivisto il Pescara del giorno di andata, è mancato solo il gol. È vero, abbiamo fatto un grande 40 minuti alla grande, anche fisicamente siamo cresciuti molto, la squadra ha fatto molto bene sul giro palla, abbiamo creato tantissimo, purtroppo non abbiamo raccolto per quello che meritavamo perché il traverso, due situazioni su una linea, probabilmente una era anche dentro che l'hanno presa e tante occasioni. Tante occasioni, era da tempo che non si creavano così tante occasioni e questo è un buono spiccio per il futuro. Tante note positive in una partita non semplice con una squadra che si giocava il campionato, Bettella, ma direi anche sottile, soprattutto Capone che ha avuto un approccio alla gara positivo rispetto a qualche altra circostanza. Sì, sì, Capone sta crescendo, ha avuto questo grave infortunio, era solo una questione fisica e mentale perché dopo un infortunio di genere aveva un po' timore nei contrasti, adesso lo vedo bene insieme ai suoi compagni, Sottile, Antonucci, tutti i ragazzi che sono freschi, hanno gamba, hanno voglia di fare. Questo è un vantaggio per la nostra squadra. Rispetto al primo tempo, molto meglio il Pescara, nell'intervallo ha strigliato forse i ragazzi? No, abbiamo fatto alcuni correttivi per liberare più Brugman che veniva marcato a uomo, in parte questo ci è riuscito bene, ma poi nello sviluppo della manovra è stato molto diverso, molto più possesso, molto giro palla, creavamo sempre i buchi a destra e a sinistra. E' un peccato perché abbiamo avuto tante occasioni in cui si poteva finalizzare e vincere la partita. La sostituzione di Mancuso, problemi fisici o solo stanchezza? Ma è un po' stanco, ha tirato la carretta fino adesso e chiaramente che lui ne risente dopo tutto quel campionato che ha fatto, anche per problemi fisici, perciò ho messo gente più fresca, che in quel momento magari mi serviva più gente più fresca e brava nell'uno contro uno. Dicevamo prima, grande prova di Bettella, sabato prossimo tornerà disponibile Scognamiglio dopo la squalifica, lei sta facendo un pensierino a confermarlo questo ragazzo per la gara con il Verona? No, questo lo vedremo, ha fatto un'ottima partita, sia lui che per otto, tutti e due ha fatto molto bene, perciò sono contento per lui perché è un ragazzo che si allena sempre bene, sempre serio, positivo, sono contento per la prestazione che ha fatto. Questo è un punto pesante, seppur ottenuto in casa dell'ultima in classifica, perché tutte le squadre che sono dietro il Pescara hanno perso? Sì, però se noi vincevamo eravamo tranquilli, sicuri di fare i playoff, così siamo ancora in ballo perché abbiamo il Verona adesso sabato, una grande partita, difficile, però se giochiamo come gli ultimi 40 minuti non dobbiamo avere paura di nessuno. Quanti punti mancherebbero per blindare i playoff? In questo momento penso 54, penso che quella sia la quota, visto quegli scontri che ci sono stati oggi, le sconfitte che ci sono stati e questo vuol dire che è un campionato difficile per tutti. Vedi che il Palermo pareggia in casa col Padova, è un campionato tosto, difficile, ogni partita ha una sua storia, perciò andiamo avanti, come stiamo facendo? Grazie.